Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo qui nella nuova patch di Fortnite, Fortnite Incubo del 2023 Insieme a Joe Frost Come potete vedere mi hanno dato un nuovo stile di Jack Ossassino Eccolo qua, Ossassino, non so come si dice Che quello primario è questo Adesso mi hanno dato quest'altro Che secondo me è anche più carino Direi di andare a provare tutto in game Allora, come si fa qua? Ah ok, fai pronto direttamente Va bene ragazzi, ci vediamo in game Oh comunque devo essere sincero, il nuovo stile è veramente bello Forse è anche meglio dell'originale Perché è più Halloween Se fosse stato l'originale questo E quello bianco e nero è un altro stile Sarebbe stato meglio Mamma mia ragazzi Il vecchio boost Quanto è bello Ah sì, il vecchio boost E credo che non ce ne sta niente in mappa Sì, non hanno aggiunto niente A differenza dell'anno scorso Che è stato uno Non dico il migliore Cioè non dico il peggiore Ma quasi E però almeno avevano aggiunto qualcosa Cioè qua niente Oh le caramelle Mi sta laggando tutto quanto a un certo punto Eh no, pure a me Server, server, server Sicuro Sicuro Di che c'è il wifi che ha l'etacca il massimo Quindi Questo è proprio io O i scelis Io vado Vai Ehm Poi le C4 me le prendo O prendo le bombe scudo Non so Io mi sono buttato la valigetta Io Vabbè, prendo le bombe Cioè le No, però devi venire Vabbè, appena escono Pam La scopa Eh, la spada è una scopa Vabbè Vabbè Oh, perché non riesco a prenderli Ok, c'aveva Ehi, frago Colpi assalto C'è colpi Quelli là No, razzo Razzo, sì No Ho detto No, razzo Ma erano razzo Te ne posso dare uno Te ne posso dare Babilissimo Perché c'è un lancio razio Anch'io C'è quello è una legend C'è Volevo dire Viola C'è C'è dentro questa Aspetta, buono Oh, tu vado Non mi edita C'è mi edita Ma male Mamma mia Oh, la scopa La scopa Dommican Dommican Prenditi la scopa Prenditi la scopa Subito, fra Poi, casamai Facciamo gambe Ti faccio provare La spada La Dommican E tu mi fai provare La scopa Ok Lancia Ecco la nuova bomba Vedi Lancia tipo Gli ossi Lo voglio provare Poi dopo Dammelo Vabbè Lancia gli ossi Ma come Quanto fa Vediamo 97 Viola Così poco Eh, ma c'è quello Mitico del boss Mi potrei colpirazzo Se ce li hai Eh, non ce li ho Oh, raga Qua c'è la macchina del tempo Allora, come potete vedere C'è scritto 2018 07 12 E Sono i veri UG Le persone che giocano Da tanto tempo Sapranno già che data è Sarebbe la data Sarebbe la data Dell'uscita Della stagione 5 Capitolo 1 Che I leak Hanno confermato Che nella prossima stagione Nella stagione 5 Sarà la stagione 5 Del capitolo 1 E non del capitolo 4 Quindi Ritorneremo alla vecchia mappa E questa è una scopa No, vabbè Non ci credo Cioè la spada per carità è figa Ma visto che È mitica Pensavo che aveva tipo 5 utilizzi Visto che Nella stagione 2 Capitolo 4 Quella epica Ne aveva 3 E quella Di rarità blu Ne aveva 2 E pensavo che quella mitica Ne aveva tipo 5 Visto che Ha 2 rarità in più Cioè Capisci quello che voglio dire Sì Non mi stava usando la scopa Quanto stavo per sclerare La scopa L'unica cosa È che porta più Lontano Ok ho preso quello legend Qua magari ci da tipo Il pompa nuovo legend Oppure Gente Arrivano eh Eh già Eh Me li devo gestire io però No no Ti aiuto Ti aiuto Ti aiuto Eh Sono morto Sì vabbè Mi sono messo in un luogo In cui non mi possono vedere Penso Eh No Lo vedono tutti Il mio loot Lo vedono tutti Basta che non me lo rubano però Ah vabbè Ci sei tu Ok Vedo un'arma mitica Non è il pompa nuovo Per caso Tommi canto E là Te la porto Ok C'è il pompa nuovo Oh no Forse è pieno Spaz legend Però almeno Così almeno Ti nascosto Sto scildone Eccolo Ok Così usi la spada Insieme alla scopa No Alla scopa No Ah ragazzi Per chi non lo sapesse Hanno fatto delle nuove collab Allora La prima collab Con questo skin No Che non so che collab sia Non so che Gioco Film Non lo so Non lo conosco Poi Hanno fatto la collab Con Halloween Cioè Con il personaggio Michael Myers Per chi non lo conoscesse Lui Poi Terza collab Non seconda È con Jack Skeleton E non vedo l'ora Che esce Nel negozio oggetti Cosimeno me lo shoppo Magari ci faccio anche un video In cui lo vado a provare Faccio il gameplay E niente Le collab sono finite Penso E hanno aggiunto Queste nuove skin Che sono originali Di fortnite Non sono collab Le varie No È fortnite classic E niente Volevo dirvi Solo questo E Continuamo Nel video Sì Il me Il me del futuro Che editerà questo video Io la bipera Eh niente Vabbè Andiamo in lobby Andiamo in lobby Ci abbiamo provato Rega Ci abbiamo provato Allora Fammi vedere lo shop Che non l'ho visto bene Vabbè E quanto lagga Ok Allora Star Wars Serie di Cone Di Halloween Non c'è niente Giusto Saga No ma stamattina C'erano un sacco Di skin di Halloween L'hanno tolte tutte Per mettere le serie di Cone Ma Veramente Star Wars Che poi Vabbè Star Wars Non c'è niente Vabbè Star Wars Dai Sono giusto Tre pagine Tre quattro pagine Para cinque Ma se ne dico Ne so Un carro armato Che non finisce più Allora Qua Abbiamo Le notifiche Che a me piacciono di più Le notifiche Come sono ora Allora Se tu stai guardando Le notifiche Adesso Giofrost Sembrano un po' Le notifiche Di Sidi web Sì Sembrano un po' Le notifiche Di Sidi web Allora Nei prossimi video Nei prossimi video Successivi Io Giofrost Andremo a fare Queste Missioni Di Fortnite L'incubo E di scattole Dell'orda Però adesso Scattole Dell'orda È stato Temporaneamente Chiusa La mappa Cioè Per un piccolo Bug Che adesso Stanno sistemando E fra Due tre ore Metteranno Di nuovo La mappa Sicuro Fra due tre ore L'avremo già sistemato Il bug E quindi Andremo a fare Le missioni Invece Fortnite L'incubo Sono missioni Della Battle Royale Che ti danno Allora Questo backpack Che ha anche Uno stile Senza di attività Quest'emote Che è Emote Sincronizzata Ma Ha Lo stesso rumore Delle banconote Delle Motte Con le banconote È lo stesso sound Lo stesso rumore Come si chiama Sistema musica Ecco Poi abbiamo una schermata Di caricamento Il graffito Qua lo spray La scia La musica Lo standardo E anche Il delta plano Che è carino Sì dai La posso accettare L'item Che mi piace di più È il piccone Delle missioni Scatto dell'orda Insieme alle motte Di Fortale L'incubo E niente ragazzi Per oggi è tutto Noi ci sentiamo La prossima volta Spero vi sia piaciuto il video Noi ci sentiamo La prossima volta Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti